Cosa puoi parlare? Per forza un italiano in Inghilterra. Allora, non vale. Pensano giochi in UNE. Ma è una cazzata, perché il server e West è in... Il server West è ad Amsterdam. Aspetta, sono mid? Sì, ok. Non mi ricordo, mi consiglio degli oggetti. Ma che è sta roba? Ok. E' carina sta skin, non mi dispiace. Non mi dispiace sta skin. Sembra il Pokémon Lampadario. Ding! Ding! Lasciamola morire. Minions ha spaventato. Scusate, ma fa... Allora, io vedevo Morgan che stava ferma. Ho detto, vabbè, dai, sto fermo anch'io. Vediamo se Miss Fortune va avanti. Miss Fortune totalmente da sola. Ha tirato dritto. Che poi dice, non hanno seguito, ma... Di base... È... 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 Come si dice? È Nautilus che va primo. Perché dovrebbe andarci Miss Fortune? Non ha senso che Miss Fortune faccia l'apripista per un invade. Con dietro Nautilus e Morgana. Ma 20 Miss Fortune questo non lo sa e quindi tira dritto. E allora ho detto, boh, lasciamola andare da sola e vediamo un po' che succede. E' niente. È successo quello che mi aspettavo succedesse. Ecco qua. Not feed, eh? Not. Not feed. Back. Eh, Karin Benzema. Che meraviglia. Darkseal, me la sento, dai. Comunque, abbiamo anche la prova che questi due non sono pre-made. Perché Morgana è l'uno? Che Miss Fortune è anche morta. Come è possibile? Oh. Ah, ha preso i cinque gold. Ah, 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 ah. Quanti ping, cosa sta succedendo? Mi sforzo nella rivorta. Ah, colpo wireless. MF not feed. Che mi pinga. Non! Non! Oh, 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 arriva. Lo prendiamo? No, non lo prendiamo. Yes, you feed. I see. I see. Scusate, ragazzi, sto vedendo come un idiota. Mi fa ridere sta situazione. Non so che dire. Venga qui. Venga qui. Non lo vorrei anche rubà. Ho preso l'assist, però. Buono. Buono. No, ragazzi. Allora, posso dire una cosa. A me gli iron analfabeti mi fanno troppo ridere. Mi fanno troppo ridere. Sono troppo meme. Sono troppo meme. Questo è proprio circo. Come i vecchi tempi. Vi ricordate il circo degli iron? Come i vecchi tempi. Qua è guardato, ma... Dai, uochi mi caglino il cazzo. Su, via. Ok. Guarda, è scaduta. E... Siamo con un bell'Udens, direi. Siamo con un bell'Udens. Non nei Tarvester, perché il mana comunque mi serve, visto che lei ne usa tanto. Arrivo! Ok. No, questo è il mio... No, è il mio farm. È il mio farm, sì. Vorrei prenderlo io, grazie. Ah! Ok. Va bene, è lo stesso. No, Top è morto. Gustavo! Gustavo su Nabo. Ah! Ma perché questa sta ferma immobile? Sta chattando con gli altri, mi sa. Tipo in modalità flame, in questo momento. Vabbè. Bene. Dopo... Puzzechiamo ancora Miss Fortune, ragazzi. Dopo punzechiamo ancora Miss Fortune. Occhio, occhio! Kier! Eh. Not Kier enough. Eh, Miss Fortune no help! MF no help! Miss Fortune, you have mind! Ma che... Ma che... Ma che domanda è? Oh. Miss Fortune, you have mind? You have mind? Eh? Report di ZMF. Scambio di report nel frattempo. Miss Fortune... Where is your mind? Oh, ma... 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 Guarda come corre il giro per la bottling. Passeggia, guarda, guarda come passeggia. Ma io non so dove andare, ma c'è una corsetta. Momento cardio. Dimmi sport. Dimmi sport, un momento cardio. Ok, iniziamo a maxare la Q. Oh, ma... Oh, ma... Oh, ma... Oh, ma... Oh, ma... Mmh. Sì. Importante è crederci. Oh. Ok. Miss Fortune ha rubato la kill, ragazzi. Ok. Momento Aram. Va bene, momento Aram. Non è fregato un cazzo a nessuno di quel colpo. Allora, c'ho Ludens. Miss Fortune no mind, comunque. Cioè, diciamoci la verità. No mind, proprio. Miss Fortune, are you from Naples? Ecco. Dai, Anthony 51. Anthony sa di tipo nome da meridionale che però vuole tipo un nome un po' americano. Nome internazionale da meridionale. Potrebbe essere from Naples, chi lo sa. Miss Fortune no feed. Vito all'americano manfio, esatto. Anthony! Ah, ci penso io a voi. Ecco qua, prego. Ecco qui. Ecco qui. Molto bene. Prendiamo un po' di playtap, però vedo che è stata molto scalfita sta torre. Eh sì, è messa male, ragazzi. È messa male. Bim, 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 bim. Bim, 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 bim. Allora. Che cazzo è un forno? Ok. Vai. Me già. Somat at herald. C'è qualcuno all'herald, andiamo. Oh. Ah! Oddio. Catena, ma mi hanno fatto danno. Questo lo prendo io, garazzo. Sei pazzo, guarda che ti shotta, bro. Ok. Silurati tutti, ragazzi. Ha senso piazzare l'herald qui? No, tanto la shottiamo sta torre. Non ce l'avevamo fatto comunque, sì. Vado a piazzare la top, così prendo delle playt. Se lo sei contro... Ma perché la gente sottovaluta così tanto? Ma Nautilus è forte, ragazzi. C'ha nato degli scaling up molto grossi. Cioè, per la gente Nautilus è un pattume. Ma vi assicuro che non è così. Ok. Probiamo un po' di Playtal War Witch. Ecco. So soldi. Per la gente su prot e basta? Eh, sì, è... Cioè, adesso per la realtà è comunque una meme build questa, però, cioè... Non è da sottovalutare. Ve lo assicuro. Andiamo a fare un po' di casino qui. Eh! 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 Vieni qua. Dong! Mid. Ah! Mamma mia, che passo... Che passettino da principessa! We can't kill it! Ah! Ignite! Easy. Avete visto che ignite potente. Che bel campione che è nato. Sta skin poi è pure... Mi piace. Non nasce! lagen! Bonk! 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 Oh! Ooooooh Ooooooh Dai ma non è giusto che lui arrivi a me Io non arrivi a lui Porcata Tensi di un buon giorno Non fa una piega Toccate fuga Toccate fuga Via 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 Nautilus colpisce ancora Nautilus colpisce ancora Alla fine era veramente un assassin Avete visto? Ne abbiamo la prova È un assassin ragazzi Mai sottolutarlo 66.000 un misfortune Adesso è stata solo a farmare per tutta la partita Come poteva andare se non così Keita è matta bene la Focus misfortune Weekend to work if Nautilus 3.0 in PM No ton è arrabbiatissimo Non possono fare buon lavoro Ding ding E chi c'è qui? E chi c'è qui? Non c'è nessuno E qualcuno qui? E Oooo E Toccato Toccato ragazzi Sta menando qualcuno in mid E se lo voglio soltanto rubare No ma Volevo rubare È il mio blue buff questo Mio Tutto mio È tutto mio Il salto della fede Tappeto elastico lo chiamavano Vabbè La molla di Super Mario Bros Che belle ste partite Dai ma mi sfortuna però non parla più Non mi fa più Cioè non fa più ridere Non andare a killarlo io invece ci ha pensato Mastery Eh vabbè Ok Ehi Godiamoci il fight Io sono il carry Inutile che ping Che onomatopee ragazzi Qualcuno lo sa? La radio È la radio quando non prende segnale Passo Aiauu Report cut Era un po' un abuso questo raga Lo ammetto Era un Leggerissimo abuso Però Ci sta Fa parte del mestiere Avanti Avanti tutta E onoriamo Chi onoriamo Morgana? Eh ragazzi Miss Fortune però non ci ha dato altro divertimento alla fine Non ha più detto niente Miss Fortune No feed No mind Qualsiasi cosa voglia dire Quattromila danni Bellissimo Povero Anthony Povero Anthony Eh Perfetto Hanno Una Podirò